La vita del padre singolo è dura. Anche a me manca Isabella. Ma la magia del Natale... ...e qualcuno con cui condividerla... Sei fuori servizio? Ciao! Sistemeranno ogni cosa. Mmm, è spettacolare. E il cibo o la compagnia? Il cibo. E può darsi anche la compagnia. Felice Natale a tutti voi! In prima visione assoluta, Feliz Navidad. Domenica alle 21.05, Rai 2.